Alboimba, ma dov'è che mi hai portato? Sai come è questo posto? È il tetrito Non lo so, non mi piace Cosmonte, che dici? Il posto è molto bello Si mangia benissimo e si bega pochissimo Poi i camerieri sono di una educazione squisita Ecco qua Listo? Già arrivato Uno qua e uno qua Buon appetito Grazie, scusa cameriere Sono sbalorditiva Un cappello nel piatto Scusa per 5 euro che cosa volevi? Il parrucchino Due, crepi la parete Come ti permette? Una signora Fammi dietro e qua Grazie, ma incredibile Non te la prende Bevilo smonta In compagnia da mamma Di solito